Sì, c'è, scusso, eh? Quante disgrazia. Il mese a giù ha detto che vuole mandare via il Battisti. Entro doma mattina deve lasciare libera la casa. Mandare via lui, la buona è scessa. Gli ha detto che il Battisti ha tagliato un albero vicino al fosso per farci un parte zoccoli e soscetti, un minec. Vuol dire togliere il pane a questa povera gente. Alla, è proprio un brutto castiglio. E pensate che hanno ancora lì un bambino in fascia. Sì, c'è, 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 c'è. Sì, c'è, 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 Dai, dimostra, no? Sì, sì. Delle volte sono qui, non so da che parte girarmi. Tirare avanti con sei bambini. Non sono venuto qui per improverarvi. Anzi, vi dico subito che Fibenone stare a casa a curare i vostri stessi. Che questo è un dovere che viene ancora prima della messa. Si mancava anche questi pensieri qua al fiel di un contadino che va a scuola. Cosa diranno? Troia, donna troia! Brutobur! Vida! L'acqua! Ehi, famiglia, troppo grosso! Troppo grosso! Troppo grosso! E così domesta pronti accomplishmentida in piazza month-à-à! che sta a chiedere un carro è venuto qua apposta per noi mi ha detto che sarebbe la possibilità di fare tirare dalle suore Annette e Bettina io lavorerò giorno e notte piuttosto i miei fratelli li teniamo qui in casa con noi grazie a tutti grazie a tutti